Abbiamo fatto una buona partita però l'abbiamo persa e solitamente poi quando una piccola perde contro la Juventus giocando bene è come se fossi ripagato di un qualche cosa, non deve essere così perché poi la perdi è perché non ti aiuta a crescere, poi spero che questo ci possa far ritrovare un po' di fiducia anche se le prestazioni della squadra sono state sempre su questa falsariga, ultimamente facciamo un po' fatica a concretizzare a finalizzare, che è figlio anche di una certa discontinuità che abbiamo nella presenza di tanti giocatori negli allenamenti anche questa sera le avevamo diverse con forse una decina di giorni di inattività e poi a questi livelli almeno sul piano fisico la paghi Nonostante la bella partita l'Empoli incassa la dodicesima retta di testa, è la squadra che ha incassato più reti in questo campionato in quel modo, c'è una ragione per tutto questo? Grazie Beh noi solitamente cerchiamo di difendere il più lontano possibile dalla porta perché non abbiamo grande struttura non abbiamo giocatori di un metro e novanta, l'altezza media della squadra non so di quanto sia ma non siamo altissimi e l'idea di difendere lontano dalla porta è perché è una caratteristica poi quando non ci riusciamo rischiamo di subire come è successo questa sera